Attenzione alla truffa del resto. Per pagare l'acquisto di un articolo di poco valore, il cliente truffatore mostra la banconota al cassiere del negozio, poi con una scusa la fa sparire avilmente dal bancone, ma pretende il resto, sostenendo che il contante è stato già incassato. Lo stratagemma è stato messo in atto più volte, in un caso con successo, da tre nomadi, due donne e un uomo, provenienti da un campo del milanese, presso alcuni esercizi dell'area commerciale di Castione Andevenno. I tre però sono incappati nei controlli dei carabinieri della radiomobile di Sondrio, che hanno accertato come la banda si fosse appena resa responsabile di varie tentate truffe e di altre in precedenza in giro per il territorio, per un guadagno complessivo ai danni dei malcapitati commercianti di circa 3.000 euro, denaro sequestrato dai militari che hanno denunciato i tre per truffa e tentata truffa. Di qui l'appello dell'arma ai commercianti affinché segnalino anche un solo episodio di questo tipo, perché i truffatori sono soliti insistere sul territorio finché non hanno successo. Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Sondrio, agli ordini del capitano Serena Federica Galvagno, si sono occupati anche del contrasto alla produzione, detenzione e traffico di stupefacenti che ha portato a due denunce, mentre un operaio sondriese è stato denunciato per guida sotto l'effetto di alcol. E a proposito di guida spericolata, momenti concitati domenica nella centrale via Roma di Aprica, dove si è concluso l'inseguimento nei confronti di un automobilista imprudente. L'uomo, un 54enne bergamasco a causa di alcune manovre, aveva causato la caduta di un motociclista, dandosi alla fuga e scatenando così la reazione degli amici centauri. Proprio nel centro di Aprica, al termine dell'inseguimento, è stato richiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno denunciato il pirata della strada per lesioni volontarie, omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale, procedendo anche al sequestro dell'auto. Durante gli accertamenti inoltre è emerso che l'uomo aveva in uso un cellulare rubato, di cui la denuncia per ricettazione.